Enrico Mentana e Lilli Gruber. La rivalità continua. La rivalità tra Enrico Mentana e Lilli Gruber sembra essere destinata a durare nel tempo. I due conduttori, rispettivamente di TG La 7 e 8,5 sulla 7, già lo scorso maggio avevano dato vita a un battibecco a distanza a causa di un ritardo della Gruber nel prendere la linea durante una trasmissione di Mentana. Ebbene, sembra che la situazione non si sia placata durante l'estate, visto che nella puntata di ieri del programma di Mentana è tornata in auge la frattura con una nuova frecciata diretta alla collega. Durante la maratona elettorale in Liguria, Enrico Mentana ha colto l'occasione per lanciare una doppia stoccata a Lilli Gruber. Dopo aver ringraziato i giornalisti presenti in studio per la loro resistenza fisica, ha ironicamente sottolineato che su questa scrivania alleggia un'accusa di incontinenza, è evidente che siete stati bravissimi. Una frecciata che è stata interpretata come un riferimento chiaro alla Gruber. Non contento, Mentana ha poi aggiunto una seconda stoccata, sottolineando che il suo programma non sarebbe stato interrotto nonostante l'orario di inizio di otto e mezzo. Inoltre, la maratona elettorale ha impedito a Flavio Insinna di andare in onda con il suo programma serale. Ma Mentana ha scherzato sul fatto che non potevano interrompere la trasmissione, altrimenti sarebbero stati linciati. Insomma, la rivalità tra Enrico Mentana e Lilli Gruber sembra essere destinata a continuare, con frecciate e battute che non passano inosservate. Resta da vedere come evolverà.